Elio, che ne pensi? andiamo dietro i guai oh mio dio, signori oggi è a San Fuoco tutti è a San Fuoco oggi oh mio dio oh madonna mamma mamma oggi andiamo a fondo, signori oggi è la storia oggi è la storia anche qui per noi vai Cristian, un commento? un commentare questa è una distrazione di Federico che durante la stagione ho fatto sempre le scatole e volevo la taramara ora lo mettiamo su Youtube signori, che spettacolo? che spettacolo che spettacolo, signori ti sembravano pochi pesci e li ha posto così aspettate poi ci prendiamo tutti insieme vai oh mio dio oh mio dio, signori